Sinistra 3, attenzione al bivio, destra 2, non tagliare ci sono i tra... Occhio qua, eh! Dai, dai, metti in moto, metti in moto, via, via! Dai! Metti in moto e via! Dai, 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 via, 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 Duma, 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 30! 30, destra 4, 20, sinistra 5, 100, Destra 5, 50, vai, 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 vai! Destra 5, in sinistra 4, e in destra 3 taglia, eh!